Con un'ordinanza sindacale di ieri, 13 luglio, il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, disciplina le attività balneari nel comune ed emana delle prescrizioni anti-covid da seguire nell'utilizzo delle spiagge comunali. Le misure preventive in salvaguardia della salute pubblica saranno varie. Divieto di accesso alle spiagge con temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, divieto assoluto di fumo, obbligo di utilizzo di donne i contenitori per deporre gli oggetti utilizzati in spiaggia, divieto di posizionare i propri oggetti in area diversa da quella scelta, l'obbligo di mantenimento della densità media al di sotto di 5 persone per 10 metri quadri, divieto di distanziamento lungo la battigia, distanza interpersonale di almeno un metro con persone non appartenenti al nucleo familiare, la sorveglianza sui bambini da parte dei genitori, vietate le pratiche ludico-sportive che causano assembramento, l'obbligo di recupero dei propri rifiuti, il mantenimento della distanza tra i teli da mare da un metro e mezzo ai 3,2 metri tra gli ombrelloni, oltre l'obbligo di mascherina in tutte le occasioni a contatto con gli estranei. In caso di violazione delle prescrizioni verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 75 a 500 euro, con la possibilità di pagamento in misura ridotta pari a 150 euro. Sarà compito dunque del Comando di Polizia Municipale il vigilare sull'esecuzione dell'ordinanza.